E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche quest'oggi giovedì 11 agosto 2022 torna il morning with crypto l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le news di mercato con quello che è successo nella notte e oggi un'altra mattina in green in verde appunto di fronte a molte notizie due notizie interessanti e bullish che sono successe appunto nella giornata di oggi e questa notte perché questa notte parleremo del merge e come sempre ragazzi però prima di partire l'invito è uno quindi lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento aiuta tanto il canale se siete nuovi ricordatevi di iscrivervi con il click sulla campanellina Date un'occhiata ovviamente ai link che trovate qui sotto in descrizione e partiamo non perdiamo altro tempo Parliamo di Gorli perché è la merge finale eseguito sulla testnet di Ethereum 2.0 ed è andato a buon fine è successo questa notte lo si stava aspettando insomma per capire gli sviluppi ed è arrivato è arrivato correttamente è stato eseguito correttamente questo è un grande segnale bullish in realtà per il merge perché era l'ultima parte ok del merge e quindi dovrebbe essere tutto confermato per quella che è la data prevista che dovrebbe essere circa il 19 di settembre 2022 per il merge merge che permetterà a Ethereum di passare lo ricordiamo a proof of stake invece che in proof of work e soprattutto andrà a delimitare in maniera molto forte quella che è l'inflazione del token legata appunto ai miners ne approfondiamo tra pochissimo sulla news successiva di questo aspetto perché è molto importante comunque sia chiudendo questo capitolo merge in testnet di Gorli è andato a buon fine quindi notizia molto bullish questa appunto perché sapete come i problemi tecnici siano sempre dietro l'angolo soprattutto su una merge di una chain del genere e sul passaggio da proof of stake a proof of work scusatemi proof of stake è molto delicato e quindi bene per chi crede in Ethereum e appunto ne ha parlato anche Mike Novogratz a riguardo e ha parlato appunto di come effettivamente si vada a definire in merge di Ethereum una possibilità di continuare a inserire soldi all'interno di Ethereum questo perché in realtà secondo lui il merge come vi dicevo impatterà tanto su quella che è l'inflazione del token e per chi non sapesse che Mike Novogratz è il CEO di Galaxy Digital uno dei più grandi fondi di investimento in ogni caso vi dicevo impatterà tanto sull'inflazione ovvero verrà tolta completamente l'inflazione legata al mining appunto di ben due Ethereum se non vado errato ogni blocco e che quindi portava a un'inflazione quasi di 12.000 pezzi al giorno quelli verranno praticamente eliminati quasi del tutto e soprattutto però quello che lui va a dire è questo molto molto interessante che il merge sarà la possibilità darà la possibilità appunto che la supply derivante dal mining sarà usata e passerà nelle mani degli odlers e dei long term contracts vuol dire che passerà nelle mani di chi odla alla fine quel token non tanto nel chi utilizza delle macchine per fare mining questo è interessante come punto di vista secondo me perché chiaramente sapete che se io utilizzo voglio fare mining di Bitcoin o mining di Ethereum non mi serve detenere né Ethereum né Bitcoin basta che ho dei macchinari li faccio andare e attraverso la potenza di calcolo che vado a inserire nel settore vado a guadagnarci mentre qua ovviamente bisognerà avere delle giacenze appunto perché lavoreremo in proof of stake questo è il discorso che lui va a fare e quindi sicuramente va a dire la domanda l'offerta che si va a generare non verrà almeno nel 99% dei casi dampata sul nascere ma magari verrà odlata da chi crede in Ethereum e quindi crede anche che questo entusiasmo e questo merge possa portare maggiori lo vedete qua no? che possa diventare un global institutional grade asset quindi portare i capitali istituzionali come asset di riferimento ovviamente insieme a quello che è Bitcoin ma sono due cose completamente diverse molto interessante sul punto di vista e quindi rimane sempre molto bullish su quello che è Bitcoin su quelle che sono le cripto e in realtà tant'è quello che è successo ieri ieri sono usciti i dati del CPI ve l'ho anche aggiornato qua su Twitter lo vedete proprio ve l'ho aggiornato giusto giusto erano le 2.31 i dati sono usciti esattamente alle 2.30 abbondanti quindi ed è uscito un CPI dell'8.5% questo cosa ha portato? ah chiaramente seguitemi su Twitter seguitemi su tutti i social che trovate in iscrizione anche perché è molto più veloce arrivare a voi poi siamo arrivati anche ieri con un emergency update qui so che avete apprezzato molto e sono contento di questo però ricordatevi anche altri social perché magari con una frase riesco a essere diretto sul punto, sul pezzo, in quell'istante detto questo appunto sono entrati ben 50 billion in un'ora ok? e questo per farvi capire quanto è importante questi dati quanto siamo correlati in questa fase al mercato generale a questi eventi macroeconomici non ne parliamo a caso ok? perché 50 miliardi di dollari che entrano in quell'ora ok? vi fanno comprendere quanto queste notizie siano aspettate quanto questi sentimenti quanto queste fondamentali siano utili per l'analisi utili ok? altrimenti si rischia di rimanere nel limbo la cosa interessante di questo articolo è che vi fa vedere anche qua quello che è l'inflazione non so se lo vedete ma vediamo se così migliora si migliora un po' praticamente il dato facciamo anche così ok il dato di che è uscito appunto ieri dimostra un 8.5% in più a luglio ma soprattutto questo dato è stato condizionato anche da un miglioramento di quello che erano le aspettative che erano circa sull'8.7% 5.9% il risultato escludendo food and energy quindi anche lì c'è stata una correzione quindi molto interessante comunque questo dato vuol dire che la Fed sta andando a lavorare in maniera corretta per l'abbassamento dell'inflazione e soprattutto porterà portrà a portare un rallentamento delle manovre che non diventeranno ancora più aspre ma magari si manterranno su questo standard per poi leggermente correggere questo è il motivo a mio parere sul perché i mercati poi vanno a scontrare positivamente questi decrementi andiamo a vedere velocemente i gainers e i losers che questa mattina sono andando lento ma perché poi voglio arrivare ai grafici Celsius è un po' un alternante un più 32% Lido un più 20 Ave un più 15 Thor un più 14 Synthetix un più 13 Gnosis un più 13 Ethereum un più 12 tra le principali gainers addirittura Unus un meno 3 Pax Gold e poi abbiamo le stable quello che è successo poi questa notte è una conferma effettivamente di questo movimento perfettamente riuscito perfettamente riuscito perché dall'impulso praticamente abbiamo trovato adesso neanche lo vediamo a occhio 0,38 Fibonacci qua circa e siamo andati soprattutto a trovare supporto sulla 12 che ci ha subito tenuto a galla e poi siamo andati a continuare il nostro trend ora dobbiamo stare attenti perché siamo i 24,6 circa quindi molto bene però siamo di fronte alla resistenza più importante a livello daily in questa fase perché ci troviamo esattamente esattamente faccia a faccia con i 24,6 74 che è la resistenza primaria se andiamo a superarla potremmo anche farlo direttamente in questo video in live praticamente andiamo a settare comunque un higher high confermando non il lower il higher low quindi un massimo decrescente e possiamo continuare il nostro uptrend se riusciamo a superare anche i 25,4 a mio parere non c'è molto rispetto ai 28,29 mila dollari potremmo assistere a un'accelerazione per il mese di agosto quindi molto molto interessante quello che si sta andando a formare sulle chart non possiamo dormire ragazzi agosto tutto non si può dormire non si può dormire se dormite poi vi svegliate e rischiate di andare long nei momenti sbagliati short nei momenti sbagliati purtroppo il bias del bear market è proprio questo cioè non riuscire a capire la via di mezzo non riuscire a seguire diciamo la struttura anche di breve termine ma si guarda solamente al macro e invece è importante anche comunque individuare dei trade interni che possono essere molto utili e molto profittevoli detto questo ragazzi la dominance si mantiene stabile al 41,2 la total si mantiene all'1.14 trillion non voglio aggiungere tanto altro anche perché ieri ho fatto un emergency update molto secondo me è stato utile un po' per delineare i livelli detto questo vi aspetto vi riporto anche sugli altri social e se ci sarà necessità farò un altro update di analisi tecnica altrimenti rimanete con il video di ieri e quello che ci siamo detti questa mattina perché sarà molto interessante vedere lo svolgimento di questo di questa move soprattutto la conferma della notte di Gorli e quindi la prosecuzione di questo trend detto questo ragazzi mi fermo come sempre vi ringrazio per essere stati qui con me e vi auguro intanto a tutti una buona giornata ciao ciao